Grazie Presidente, grazie a tutti, ma grazie davvero a tutti perché oggi portiamo un provvedimento, l'attuazione della legge delega 227 del 21 importantissimo, che segna davvero un punto di svolta nella visione della disabilità dal punto di vista culturale, non solo pratico, che è sicuramente l'elemento più interessante per le persone e per le famiglie, ma davvero portiamo un decreto attuativo che contiene un passaggio fondamentale, cioè quello di una visione che tenga conto davvero delle persone al centro e delle istituzioni che si muovono per loro, quindi non il contrario. All'interno del decreto attuativo ci sono due parti fondamentali e due concetti importanti, i due concetti sono l'introduzione del concetto di disabilità, così come previsto dalla Convenzione ONU e quindi andremo a modificare tutte le norme più vecchie, insomma anche dal punto di vista proprio formale, il concetto di disabilità significa l'interazione negativa con l'ambiente, non un'etichetta che mettiamo sulle persone e quindi cancelliamo nella storia normativa le parole o i concetti di persona con handicap, portatore o affetto da handicap e modifichiamo tutta questa parte. Introduciamo anche un altro concetto molto importante che è quello dell'accomodamento ragionevole, che dovrebbe essere utilizzato quando una persona si rivolge alle istituzioni e c'è la possibilità, diciamo, di garantire parità, equità nella garanzia dei servizi, ma anche con il ragionevole intento di andare incontro alle necessità della persona. E le due parti fondamentali del decreto attuativo riguardano la valutazione dell'invalidità civile e quindi il percorso di invalidità civile che le persone devono fare verrà semplificato. Abbiamo ritenuto e sono profondamente convinta che non possiamo chiedere alle persone con disabilità, alle loro famiglie di presentarsi davanti alla commissione di valutazione ogni anno, ogni due anni, anche quando hanno una disabilità accertata, una patologia gravissima, magari anche degenerativa. Quindi una semplificazione e sburocratizzazione del percorso anche nella parte riguardante i certificati di avviamento della richiesta di invalidità. Quindi adesso attualmente c'è un percorso abbastanza tortuoso per le famiglie che si sovrappone diversi certificati sia in via amministrativa che dal medico di base. Noi diciamo che l'avviamento di questa procedura deve bastare. Ecco, può essere attestato da un medico, anche ospedaliero, autorizzato dall'Inps naturalmente, ma che deve essere sufficiente per non complicare ulteriormente la vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Sicuramente è un passaggio importante, anche questo epocale, perché voi sapete che la condizione di invalidità civile è sempre stata valutata sulla capacità residua di lavorare. Oggi invece diciamo che verrà valutata sulla funzionalità, sul profilo funzionale della persona. Questo è richiesto dalla Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che introduce proprio l'ICF come classificazione delle disabilità e naturalmente porta all'interno del percorso di valutazione quindi la qualità, diciamo il tema qualitativo, non solo quello tabellare nell'esaminare la persona. Quindi sostanzialmente commissioni più, magari un pochino più accurate, con una nuova composizione, ma che non debbano essere ripetute continuamente nel tempo, che devono fare una giusta valutazione. Naturalmente ci saranno delle eccezioni che il Ministero della Sanità con un decreto successivo valuterà e che sarà però invertito l'ordine attuale. Ossia adesso la rivedibilità è per tutti, invece in futuro noi diciamo che una volta che è stata accertata la condizione di invalidità debba essere chiesta la rivedibilità solo per alcune categorie specifiche. Dall'altra parte c'è anche un tema importantissimo che viene introdotto per la prima volta e questo davvero sarà un cambio culturale, una svolta importante, il tema del progetto di vita. Il progetto di vita mette davvero al centro la persona con disabilità e fa sì che sia davvero protagonista di quelle che sono le scelte della presa in carico e di cura nel suo percorso di vita. Trae spunto dalla 328 dove parliamo dei piani individuali, trae spunto dalla legge 112 dove parliamo di progetto di vita nella dimensione abitativa, ma in realtà tiene insieme tutta la parte sanitaria, sociosanitaria e sociale negli interventi che si rivolgono alla persona. Ho fatto questo esempio per semplificare perché mi rendo conto che qualche volta è un po' difficile spiegare questi temi così tecnici in pochi minuti, ma sostanzialmente ora la persona quando si trova su territorio a dover aver bisogno di un servizio, attivare un servizio comunale relativo alla scuola oppure a carattere sanitario, deve girare per diversi uffici, deve bussare a tante porte. Invece noi con il progetto di vita introduciamo il concetto per cui la persona al centro viene valutata e viene condivisa con la persona stessa il percorso da affrontare nei diversi bisogni della vita. Quindi una conferenza di servizi che si riunisce, come già succede con le equip multidimensionali, ma che tiene conto sia del carattere sanitario, sociosanitario che sociale dei bisogni della persona. Una risposta efficace, come diceva prima il Presidente Meloni, e ringrazio davvero sia la Presidenza, Sottosegretario Mantovano, tutti i ministri che hanno partecipato perché è un lavoro di squadra. Ringrazio anche, permettetemi, chi ha lavorato alle proposte di questi provvedimenti che sono le commissioni coordinate dal consigliere Piccione, ma che poi al loro interno hanno avuto sia il mondo associativo, FAND, FISH, altre associazioni importanti, maggiormente rappresentative del mondo della disabilità, ma anche ANCI, le regioni, le rappresentanze delle categorie dei medici, l'INPS, ecco tutti i soggetti coinvolti a diverso titolo nella realizzazione del progetto di vita delle persone con disabilità. La riforma, perché veramente è una grande riforma, si avvierà con il primo gennaio 2025 con una sperimentazione e si avvierà naturalmente solo su alcune province. Si tratta davvero di andare a rivedere percorsi che da tantissimi anni sono stati svolti sempre nello stesso modo e oggi invece introduciamo un concetto innovativo e soprattutto derivante dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità. Quindi entrerà in vigore in modo progressivo e naturalmente se qualcuno magari volesse chiedere le risorse sono quelle che ho dichiarato in questi giorni, quindi i 350 milioni sono sui capitoli di spesa degli anni successivi a partire dal 2025, poi ci sarà la piena implementazione, l'entrata in regime della riforma a partire dal 26 e quindi con gli 85 milioni in più che il MEF ci ha dedicato spostandoli da quest'anno sugli anni successivi. Quindi io non so se ci sono domande, altrimenti io manderò a tutti i giornalisti una scheda dettagliata con tutto naturalmente i passaggi di questo importante decreto. Grazie. Grazie anche al Ministro Locatelli. Scusate ci siamo stati lunghi ma i provvedimenti come vi ho detto in apertura erano diversi e grazie a tutti i giornalisti.